Sì, è arrivato adesso. Ciao Tiago, intanzitutto complimenti perché, partiamo da lì, avevi fatto una sorta di impresa, cioè in un campo così difficile, così particolare come quello di Torino, l'Allianz Stadium, hai portato un atteggiamento bellicoso della tua squadra nel secondo tempo, lo hai tenuto in un campo così difficile e poi con un uomo in meno hai saputo giocare meglio della Juventus. Complimenti alla squadra, complimenti a tutti i giocatori. Hanno fatto una buona partita, una bellissima partita contro una squadra difficile, non solo in Italia, anche in Europa. Abbiamo giocato la partita fino alla fine, poi con episodi abbiamo... ho avuto il risultato che volevamo, però sono triste per il risultato e per la prestazione che hanno fatto i giocatori, sono contentissimo, hanno dimostrato oggi ancora una volta di essere una vera squadra. Tu hai battuto molto su questo fatto che dobbiamo essere una squadra, l'hai detto in settimana, ed hai ottenuto proprio questo. Tu non l'hai mai cambiata, hai ottenuto lo stesso atteggiamento, usciva un attaccante, entrava un attaccante, è uscito un centrocampista, entrava un centrocampista. Non hai mai cambiato la squadra, neppure quando sei andato sottonumericamente. No, anche perché... Sì, era un momento difficile dopo l'espulsione, però... dovevamo continuare a giocare, non possiamo... non possiamo mettersi indietro e pensare che sia sufficiente difendersi, anche con una squadra, con il potere cano infensivo, come queste squadre della Juventus. I giocatori sono stati bravissimi, giusto, fino alla fine della partita e sono contento per la prestazione. Senti, due cose, poi lascio la parola ai colleghi. Uno, doveva forse essere espulso Rugani in quel frangente, perché il cartellino rosso lì forse ci stava. Vi lascio a voi a giudicare. Io, da quello che ho visto nel campo, e poi non è il mio ruolo giudicare quello che ha fatto l'arbitro, solo ti dico che stasera è stato severo. Senti, e l'ultima cosa, ieri in televisione abbiamo definito un impact che diceva la pozione magica di Tiago Motta. Cosa hai dato a questa squadra per cambiare, rivoluzionare, perché la parola giusta è rivoluzione, perché è cambiamento in così poco tempo? Veramente, sto con la verità, con poco tempo così si può cambiare poco. Sono loro. Sono i giocatori che hanno questo dentro. Ancora un'altra volta, come l'altra sera, anche nel primo tempo, in momento di difficoltà, anche la partita in casa con il Brescia, in momento di difficoltà, sono rimasti uniti, hanno lavorato insieme. Dimostrazione di una vera squadra, dimostrazione che questi giocatori possono giocare le partite contro chiunque, senza nessun problema. Dobbiamo continuare per questa strada, dobbiamo continuare a lavorare. Sicuramente è una serata difficile, dopo il risultato, però, ho detto che nel spogliatoio possono andare a casa tranquilli, perché hanno fatto tutto quello che potevano, potevano, e hanno lasciato, ossia, hanno giocato da Genoa. Noi, con questa maglia, dobbiamo essere sempre così, una squadra unita e che gioca a calcio. Solo devo fare i complimenti ai giocatori. Buonasera, ben rientrato in Italia da Mister. Le chiedo, ritrovando la Juventus, ha trovato qualche punto debole in questa squadra che ambisce chiaramente a diventare una big anche a livello europeo, lei che ha esperienza anche importante? Ho visto una grande squadra dall'altra parte, come ho detto prima, una squadra con dei giocatori forti, anche a livello collettivo, anche con un calcio nella mia opinione attraente. Sono contento con la mia squadra, ti dico, io guardo le altre squadre, però faccio molta attenzione alla mia e alla fine solo posso fare il complimenti ai miei giocatori. Grazie. 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 Grazie.